Bene, una volta che noi sappiamo trasformare frazioni in numeri decimali, numeri decimali in frazioni, possiamo confrontarli tra di loro, le frazioni e i numeri decimali, per esempio mettendole su una linea dei numeri. Poi avete una linea dei numeri che va da 0 a 6, poi dentro l'intervallo tra ogni unità, quindi tra 0 e 1, 1 e 2, è stata fatta una divisione in dieci parti. Quindi ognuna di queste parti rappresenta un decimo. Infatti da 0 a 1 abbiamo 10 tacche, da 1 a 2, altre 10, quindi in totale 20, eccetera. Poi, e quindi queste tacche che valgono un decimo, lo possiamo rappresentare o scrivere come 0,1, ognuna di loro. 0,1, 0,2, 0,3, se arrivo a qua sono 1,1, 1,2, 1,3, 2, 2,1, 2,2, 2,3, eccetera. Poi, dentro l'intervallo tra ognuna di queste tacche, noi possiamo pensare che ci siano altre 10 tacche. Questa volta siamo andati a dividere in dieci parti un decimo, quindi ognuna di queste tacche rappresenta un centesimo. oppure 0,01, che è la stessa cosa. E ancora possiamo immaginare di dividere l'intervallo tra due tacche e dieci parti, in questo caso scendiamo sotto i centesimi, quindi andiamo ai millesimi, o 0,001. Bene, quando abbiamo un numero, per esempio 5,3, dove lo andiamo a posizionare? Dobbiamo andare a 5 e aggiungere 3 decimi. Eccolo qui. 5 unità, 3 decimi. Se abbiamo 2,25, cosa significa 2,25? Significa 2 unità, 2 decimi e 5 centesimi. Quindi, l'unità, li porto qui, aggiungo 2 decimi. I centesimi devo immaginarli tra queste due tacche. Siccome sono dieci tacchettine, come abbiamo visto prima, vedete, qui in mezzo ci sono dieci tacchettine, alla quinta, quindi in mezzo proprio, quindi 2,25 lo troverò a metà tra 2,2 e 2,3. Se ho una frazione come 7 quarti, non so se si legge, ma comunque forse c'è il modernato. Comunque 7 quarti, io mi ricordo che lo ottengo dalla divisione, per avere il numero decimale, lo ottengo dalla divisione di 7 e 4, che fa 1,75. Quindi andrò qui, conterò 7 tacchettine, e poi 1,2,3,4,5,6,7 decimi, poi ci sono i 5 centesimi che vado a trovare, immaginare qui dentro, quindi la freccia la metto tra scusate, 1,7 e 1,8. Ok. Online si trovano varie attività in cui si fanno confronti tra numeri, frazioni. Questa è un'attività della FET Simulation, in cui si confrontano in realtà immagini delle frazioni con le loro rappresentazioni come frazione, appunto. Però la cosa interessante qual è? Che, per esempio, prendiamo due terzi, lo mettiamo qui, e due terzi rappresentato come disegno, ce l'abbiamo qui, controllare. La cosa interessante è che anche qui abbiamo una linea dei numeri. Vedete? Due terzi, che se lo andiamo a calcolare è 0,666, 6 che era un finisce mai, quindi è un 0,6. Poi è stato rappresentato anche come una barretta che va, vedete, questo è 1, lo 0,1, questo è 0,5, e lo 0,666 lo troviamo qui. Questo è un altro modo di rappresentare i numeri frazionali. Questa è un'altra attività sempre di FED Simulation, si chiama frazioni in produzione. Qua vi dà la possibilità di visualizzare le frazioni in vari modi anche con la linea dei numeri. Si sceglie il numero di tacche, quindi l'unità che si vogliono vedere, e poi si sceglie anche il modo in cui vanno divise. Qua le possiamo dividere in unità, quindi non vediamo nessuna divisione, in mezzi, in terzi, in quarti, in quinti, in sesti, in setti e in ottali. Non si arriva alla divisione in decimi, quindi qua si può solo rappresentare una frazione e vedere dove si trova, per esempio, in undiciottali, però non si può fare il confronto con i numeri decimali perché qua il denominatore non arriva a dieci, quindi non c'è quel confronto che abbiamo fatto noi. Ecco, quello che invece io vi chiederò di fare nell'esercizio che trovate nella pagina successiva è dati alcuni numeri, andarli a posizionare, scritti come numeri decimali o come frazioni, andarli a posizionare sulla linea dei numeri. Naturalmente la linea dei numeri può andare all'infinito, può andare da zero fino al numero grande che volete, può andare anche da zero a numeri negativi che sarebbero a sinistra, qua non sono rappresentati. In ogni caso, l'esercizio che troverete nella pagina a fianco dovrete posizionare i numeri e le frazioni sulla linea dei numeri. Buon lavoro!